oggi vi presentiamo un nuovo modello di tasca barra zaino della miltech quindi in apparenza può sembrare una tasca multiuso da aggiungere al nostro gilet o zaino col nostro sistema molle ma in realtà una volta andato ad aprire tireremo fuori un bellissimo zaino quindi dopo andando a richiudere la tasca che prima conteneva lo zaino diventerà una tasca se stessa ed ecco qua troviamo il nostro zainetto sistema molle velcro in frontale con già una patch in gomma della miltech lacci per lo zaino anche da mettere a tracollo quindi davvero una saperza da parte della miltech da aggiungere al nostro zaino magari per avere ulteriori spazio di emergenza con diverse colorazioni verde o di pure nero grazie a tutti